Cesco Rutelli che oggi peraltro si occupa di cinema, il presidente di Anica, l'associazione nazionale delle industrie cinematografiche e degli audiovisivi però parliamo di Roma, la sua Roma, perché come ricordava De Masi, lei è stato un sindaco molto citato e molto rimpianto ultimamente la cosa che mi colpisce di più, glielo lo dico subito, è che quando fece il sindaco lei era il sogno di una vita fare il sindaco di Roma ormai sembra che trovare un candidato sia difficilissimo Ma questo vale non solo per Roma, vale per tanti comuni e tante città perché è un mestiere veramente meraviglioso è difficile fare il sindaco, se tu lo fai in un borgo, in una cittadina dove tutti si conoscono c'hai un senso di comunità che si riflette subito, se lo fai in un contesto un mio amico filosofo dice che le città sono come le lingue, o si trasformano o muoiono le lingue morte sono quelle che non hanno conosciuto trasformazione la città si deve trasformare continuamente e indubbiamente nell'ultimo periodo questo è stato più difficile però io non ho mai fatto, come lei ha detto, polemiche e non sono in politica da otto anni e quindi posso parlare con la libertà del cittadino e di chi ha dato una mano a questa città anche come volontariato ho creato una scuola per formare giovani e altre cose Senta, hai qualche consiglio a dare a Gualtieri? Cosa fare? Super squadra, gliel'ho dato anche quando ci siamo parlati gliel'ho dato prima e super squadra quello che gli italiani hanno capito è che l'uomo solo al comando dura poco anche se fosse un, si diceva un tempo, mandrake mandrake, esatto, anche mandrake o comunque un super eroe, se si chiama mandrake, un super eroe da sola o solo nessuno ce la può fare super squadra, persone di qualità e anche secondo me non sarebbe banale però è una scelta che riguarda chi ha vinto le elezioni persone di sensibilità diverse non per rispondere a un partito o a un altro ma per rappresentare anche quelli che non ti hanno votato e sottolineo i tantissimi che non hanno votato alla fine questo secondo turno a Roma si è concluso credo che lui abbia vinto con 580 mila voti cioè con un pezzo piccolo di città perché l'assenzione è stata enorme questo è un tema che va tenuto a mente scusi ma questa tornata di amministrative per lei è un segnale anche del fatto che il centro-sinistra sta risorgendo sta tornando quello di una volta perché anche lei si è parecchio esercitato anche sul centro-sinistra nella sua vita bisogna guardare bene i numeri dell'Italia e l'Italia è fatta di città come in tutta Europa a mio avviso se lei ha visto quello che è successo con la Brexit Londra ha votato contro per rimanere in Europa e il Paese Profondo ha votato per la Brexit in Francia nelle grandi realtà in Spagna diciamo a Budapest anche dove ci sono i governi di destra Budapest e Varsavia sono governate dai progressisti mentre il Paese è nettamente piuttosto spostato a destra quindi non darei un'interpretazione generale di questo voto senza considerare che c'è un Paese profondo diverso e poi che quando arriva il voto politico anche le cose sono certamente molto diverse però c'è un prevalere anche perché sicuramente i candidati e Gualtieri lo è sono stati candidati solidi affidabili e quindi seppur una minoranza del popolo mai dimenticare questo ha scelto ma l'idea di un nuovo olivo un'idea che ci può stare anche se mi pare che sono un po' riottosi quelli che dovrebbero starci dentro perché Calena ha detto ma è con 5 Stelle 5 Stelle vogliono stare l'opposizione nelle città e si può ripensare un progetto di quel tipo? Perché vuole togliermi il piacere di non occuparmene più da alcuni anni? Per cari d'ora senta invece no mi stiamo volendo rimettere due cose la prima cioè il rispetto ovviamente però anche il fatto secondo me è difficile lei consideri le forze politiche oggi hanno molti meno voti popolari lei lo ricordava prima quando ci sono state le prime sfide per il sindaco votava l'80% e mi sono andata a guardare quanti voti prese lei incredibile 950 mila più della somma di Gualtieri e Michetti anzi quasi un milione nella successiva capito che vuol dire più della somma cioè vuol dire proprio era un altro popolo a votare perché c'era intanto c'erano forze politiche organizzate per un verso e c'era una freschezza un'aspettativa di cambiamento e oggi la gente sta più guardinga questa è una cosa molto importante chi governa a mio modo di vedere anche se vuole trasformare una città deve coinvolgere informare le racconto una cosa poi non parliamo del passato che annoia io dopo un anno ero sindaco mi sono reso conto che stavamo preparando centinaia di progetti che poi sarebbero stati realizzati nel tempo e dico centinaia non uno, due o tre ma che non avremmo nel mio primo mandato realizzato delle cose quindi riunì tutta la squadra e proposi di fare un programma si chiamava Cento Piazze anche inventato il nome e noi siamo intervenuti abbiamo ricostruito rifatto da capo o restaurato in centro o fatto in periferia 160 piazze della città al centro dei quartieri perché volevo portare a casa qualcosa che fosse visibile velocemente o meglio nei tempi giusti due o tre anni e non i sei sette anni che ci vogliono adesso l'Italia ha destinato risorse importanti per il PNRR riguarderà le città riguarderà Milano riguarderà il Mezzogiorno e anche Roma sicuramente le possibilità ci sono e ci sono un sacco di soldi che prima non c'erano bisogna dimostrare di saperli spendere mi pare che l'ha provocitata un altro giorno dicendo la squadra di 100 mi auguro veramente che lo faccia ecco ma lei ci starebbe mai dentro questa squadra no sono mi occupo di altre cose si occupa di altre cose va bene però da una mano volentieri come volontariato come ha fatto allora facciamo una cosa parliamo proprio come osservatore